Ballotelli questa sera, come d'altronde l'altra volta, non ha sbagliato un pallone. Che Dio voglia che sia veramente un Ballotelli che speriamo tutti che sia diventato. Appare molto riflessivo, molto serio. Ha trattato la palla in una maniera esemplare. Ha fatto tutta una serie di allunghi, di passaggi, dialogando con gli altri in maniera ineccepibile. È stato attaccato anche duramente, non ha reagito. Io spero che sia veramente il Ballotelli di questa sera, possa continuare così nel futuro. Io lo sento ogni tanto al telefono, mi sembra tranquillo, mi sembra sereno. E credo che, diciamo, se così si può dire, abbia raggiunto il giudizio della età calcisticamente matura. Ma io credo che Ballotelli possa ricoprire indifferentemente i tre ruoli dell'attacco. Prima punta, seconda punta o anche distributore di gioco.